C'è tutto quanto la casetta, ma non chiuso tutto la casetta. Come c'è? E come fai? Normalmente a stendere io, poi facciamo una cosa del genere. Non so che la cassa. Allora tu ti puoi inventare qualsiasi cosa. Siamo iniziati su Samadine e Vecchia. E diventate una gamba. Perché dovrebbe venire Moda se non dovrebbe andare al centro commerciale? Ma scusa, qua c'è la macchina che devi pagare, c'è il centro commerciale che non si paga. Ma poi la stessa cosa l'hanno fatto i miei a capo a dieci negozi, però hanno fatto volantinaggio, cartellonistica, stradale e tutti quanti ci sono stati. Cioè nessuno sa niente, ma per dire, perché non ci hanno organizzato e poi ci hanno organizzato, non ci stanno volantinaggio, non ci stanno niente, ma la gente che ne sa. Ma tu non stai avendo più po' per la gente. Cioè da qui sono fermati il negozio, è riscosato, ma che succede secondo me, non te lo so dire. E' un paese come questo, è un paese come questo, la gente, è una cagata. Ma quando fai scena pure lì la notte bianca? Ah, fai scusate a capo, c'è. Ah, fai scusate a capo, fai scusate a capo, fai scusate a capo, fai scusate a capo, fai scusate a capo. Cioè io c'è un po' che si chiude un po' su, allora si organizzano qualche cosa. Allora, qui le tante ancarelli, che si stanno andando la stronzata, quella delle pastagne, quella delle pastagne. Ma che non ne fa Santa Maria? Che c'è non ne fa' di Santa Maria? Che non ne stai, ma che ne fai? Cosa ne fa? Senza niente, che non veniva a venire? Cioè, che c'è stato? C'è stata un'attrazione per fare la strada. E te che c'è una richiesta di qualche bancaretta? No, vanno a mettere i bancaretti. Che sono i bancaretti? Sembra una cretinata, ma poi... C'è la spesa? C'è la potenza? No. Noi... Si è fatto un signore a scelto domani. E lui ci spesso. E lui ci spesso. E io li ho cercato Weil la strada fa scelta li communication. E lui! Vediamo la strada. Prima di questa strada è la strada. E lui ci spesso. E lui ci spesso e i bambi... E lui?